partendo aspettate partendo dal presupposto che sì no che sì che sì sono consapevolissimo oggi di avervi fracassato i coglioni per più di 20 minuti parlando di roberto mancini nuovo allenatore della nazionale italiana e quant'altro ma per un allenatore in italia che arriva c'è un allenatore in italia italiano che fa parte di un club che potrebbe partire e in quel caso ovviamente il suo club dovrebbe pararsi le chiappette e cercare un nuovo allenatore perché non è che si può allenare senza allenatori una squadra dei club detto questo stiamo parlando del napoli stiamo parlando di maurizio sarri stiamo parlando di una stagione veramente importante perché qualora napoli dovesse vince l'ultima giornata di questo campionato metterebbe comunque un record di punti in campionato di serie a per la propria squadra e quindi non stiamo a parlare insomma di pizza e fighi sicuramente un allenatore molto importante ciao vi saluto perché se non vi saluto più dopo un minuto e me bella a tutti da me siamo tornati con questo nuovo video perché vogliamo anzi voglio perché sto da solo se non faccio come il divino terma che parla al plurale voglio parlarvi di una suggestione o meglio di un'indiscrezione che si sta facendo sempre più forte nelle ultime ore ossia qualora maurizio sarri non dovesse tra virgolette rinnovare perché c'è un contratto fino al 2020 qualora non dovesse adeguare il suo contratto non trovasse un accordo con aurelio de laurentis in tal senso potrebbe e dico potrebbe arrivare un allenatore che farebbe sbarrare gli occhi proprio ai tifosi del napoli che sicuramente farebbe rapidamente dimenticare un certo maurizio sarri nonostante quello che ha fatto fino a questo momento le ultime voci di corridoio vorrebbero addirittura carletto ancelotti probabile forse utopico ed ipotetico allenatore del napoli ma andiamo per gradi ragazzi miei perché attualmente lo ripeto non mi ricordo se l'ho già detto sarri ha un contratto fino al 2020 però che cosa succede che sicuramente il modo di allenare il napoli da parte di maurizio sarri non è passato inosservato in tanti e tanti club tant'è che sono molti club che vorrebbero provare ad accaparrarselo ragazzi non solo in italia in italia non si parla di nessuno con sarri ma all'estero c'è un certo celsi che molto probabilmente non rinnoverà o meglio manderà via antonio conte non rinnoverà la fiducia di antonio conte e starebbero pensando proprio a maurizio sarri voi mettetevi nei panni di un allenatore come sarri che lo ha detto e lo ha ribadito tante volte a prescindere da come andrà il napoli e napoli mi è rimasta nel cuore perché comunque ha fatto vedere cose importanti la tifoseria si è innamorata dell'allenatore sono andati molto e dico molto vicini non dico a uno scudetto ma comunque a giocarsela fino agli ultimi minuti di questa serie a per un ipotetico ed eventuale appunto scudetto ma che volevo dire allora il 31 maggio ecco questa è una data molto importante perché scade la clausola rescissoria di maurizio sarri voi direte ma che gli è stata messa una clausola rescissoria sarri ragazzi sì aurelio de laurentis de laurentis ha messo una clausola rescissoria all'allenatore cose che non si sentono poi così tanto però il 31 maggio appunto scade a quanto ammonta questa clausola ammonta ad 8 milioni di euro che cosa significa che de laurentis si era parato il sederino che cosa ha pensato di fare dice io mi blindo questo allenatore fino al 31 maggio 2018 e se qualcuno se lo vuole accaparrare quindi fino a sta stagione praticamente se l'è voluto blindare se qualcuno se lo vuole accaparrare prima di questa data mi deve dare 8 milioni di euro oltre poi ad accordarsi con quello che è il futuro allenatore e va bene sta per scadere questa questa clausola sta per arrivare questa data e di conseguenza il napoli inizia un po ad avere più paura perché fino a che c'hai la clausola è più difficile che ti vengano a togliere l'allenatore perché comunque devi pagare questo surplus tra virgolette con la scadenza di questa clausola sicuramente l'allenatore diventa più abbordabile nonostante un contratto fino al 2020 squadre come il celsi credo che senza clausola rescissoria ma pure con però diciamo senza non avrebbero problemi ad offrire sicuramente un contratto in termini economici superiore a quello che attualmente percepisce proprio maurizio sari al napoli di che cifre stiamo parlando allora attualmente non mi ricordo quanto percepisce percepisce sari ma non tantissimo so per certo che non è una questione solamente economica da parte di maurizio sari perché sari chiede delle garanzie a de laurentis chiede una rosa più lunga una rosa più competitiva per cercare di competere al campionato quindi sari è un allenatore di grande ambizione ha visto che con questo napoli è arrivato a questi punti è arrivato abbastanza vicino alla juventus per continuare questa avventura con il napoli chiede a de laurentis di spendere parecchi soldini per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa e quindi portargli qualche fenomeno in più qualche non solo giovane ma magari anche qualche personaggio con un minimo di esperienza proprio per far fare al napoli quel minimo di salto di qualità in più e dal punto di vista di numeri quindi numeri intendo de rosa ecco e dal punto di vista anche emotivo e mentale questa sarebbe la chiave di volta anche perché lo ripeto non dovrebbe essere una questione di soldi in quanto sari chiederebbe 4 milioni fino al 2022 e aurelio de laurentis scusate potrebbe essere disposto ad accettare senza troppi problemi le richieste di questo allenatore anche perché ragazzi a mio parere sari è un allenatore che 4 milioni all'anno ce li vale tutta la vita visto quello che ha fatto vedere soprattutto non parlo solo in termini dei punti ma parlo anche e soprattutto del gioco che fa esprimere alle sue squadre veramente importantissimo quindi ripeto non è una questione dei soldi anche se de laurentis secondo in descrizioni sarebbe disposto ad arrivare massimo a 3 milioni e mezzo ma in quel caso le differenze sarebbero minime io credo che si potrebbe trovare un accordo in tal senso ma so altre le cose che ho già detto poc'anzi quindi no questione di soldi il giorno decisivo dovrebbe essere proprio questo mercoledì decisivo tra virgolette perché non dovrebbe esserci una decisione ufficiale ma ufficiosamente tra di loro allenatore e presidente potrebbero decidere se continuare ancora questa avventura insieme oppure se le loro strade potrebbero prendere appunto una via differente quali sarebbero le alternative ad ancelotti adesso ne parliamo qualora non si riuscisse proprio aurelio de laurentis ad accordare con un allenatore del genere perché comunque ragazzi vi ricordo che ancelotti ha rifiutato la nazionale italiana vi ricordo che secondo indiscrezioni ancelotti ha un preaccordo con un certo arsenal e quindi voi mi dovete dire in questo caso se ancelotti messo davanti a una scelta napoli o arsenal o magari ci saranno anche altre squadre chi lo sa secondo voi quale potrebbe essere la scelta di ancelotti l'arsenal sicuramente è una squadra importantissima ma attualmente pure il napoli ragazzi visto come è arrivato in classifica non mi sembra poi così così scarso l'unica domanda che magari viene in mente che potrebbe anche venire in mente ad ancelotti e quali garanzie in termini di nuovi acquisti de laurentis potrebbe dare proprio all'ipotetico nuovo allenatore del napoli e quindi magari se della se de laurentis dovesse accontentare ancelotti potrebbe decidere di venire però in quel caso è un cane che si morde a goda perché potrebbe rimanere direttamente maurizio sarri le alternative proprio qualora ad ancelotti e a sarri qualora non dovesse rinnovare o meglio adeguare il proprio contratto con il napoli sono parecchie si parla di antonio conte antonio conte che col celsi io credo che molto probabilmente non verrà riconfermato e potrebbe anche prendere una decisione in tal senso destinazione napoli queste sono sfide proprio all'antonio conte che sicuramente gli piacciono e non poco però antonio conte ragazzi credo che sia un allenatore che voglia molto più di 4 milioni di euro a stagione però diciamoci la verità credo che anche carletto ancelotti non venga al napoli per meno di 5 milioni e mezzo 6 bisogna vedere fino a che punto aurelio de laurentis sarà disposto ad esborsare economicamente queste queste cifre altri allenatori probabili che potrebbero approdare sulla sponda partenopea sono emeri fonseca gasperini e giampaolo io credo che di tutti questi allenatori qualora fossero stati credo che siano già stati sondati dal napoli perché comunque in qualche modo le chiappette se ne deve pur parare ma io credo che escluso conte che potrebbe anche decidere di non accettare chi lo sa forse solo per una questione economica boh punto interrogativo emeri fonseca gasperini e giampaolo potrebbero accettare la destinazione senza troppi problemi emeri sicuramente costa un po più un po meno de conte ma un po più de gasperini e giampaolo fonseca è una via di mezzo non ce la faccia respirare ragazzi c'ho tosse raffreddore mi devo rifare l'antistaminico congiuntivite quindi vi chiedo scusa amore tempo che mi rifaccia la cura e poi sparirà sta voce nasale sparirà sta cosa che devo respirare così ma quando cambia la stagione per me è veramente qualcosa di incredibile detto questo voi che cosa ne pensate oddio me se sta scaricata la batteria ci manca solo questo chi potrebbe essere probabile qualora sarri non dovesse rinnovare ma secondo voi sarri rinnoverà alla fine con il na rinnoverà tra virgolette adeguerà il proprio contratto con il napoli fino al 2022 attualmente fino al 2020 o deciderà di fare esperienze europee internazioni chi lo sa do andranze sa forse celsi magari da squadre che gli danno più garanzie in termini economici dei investimenti e quant'altro voglio sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate detto questo ovviamente commentate con il vostro parere se secondo voi resterà sarri se arriverà ancelotti se arriverà i merissi arriverà gasperini personalmente a me un gasperini che comunque in termini economici secondo me è abbordabilissimo potrebbe fare al caso proprio del napoli perché gasperini fa giocare anche giocatori giovani voi direte ma il napoli l'undici titolare ce l'ha già bello plasmato quindi c'ha bisogno sicuramente di qualche rinforzino qua e là gasperini a mio parere è bravo proprio a scoprire talenti magari anche all'interno della primavera del napoli quindi mai dire mai detto questo ragazzi miei mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale vi ricordo il link in descrizione iscrivetevi o meglio seguitemi sia su instagram e sia su telegram perché se youtube non vi manda le feed dei video che pubblico le notifiche tramite instagram e telegram ve le mando direttamente io voglio fare un ultimo appunto proprio su carletto ancelotti perché secondo me e ve lo dico col cuore in mano lui sta pensando seriamente a questa proposta di de laurentis perché de laurentis è anche abbastanza pressante perché comunque c'ha paura che sarri non vada a rinnovare col col napoli e secondo me sta prendendo in considerazione questa alternativa perché comunque stiamo parlando di una squadra che ha fatto una fracca dei punti che ha una base importante e che in serie a anche per la prossima stagione sicuramente sicuramente scusate se la potrebbe lottare per un ipotetico ed eventuale scudetto è ovvio che il modo dei giocati sarri e il modo dei giocati ancelotti a mio parere sono totalmente differenti sarri esprime un gioco più 1 2 e rapido diciamo che ancelotti esprime un tipo di gioco magari un po meno rapido però comunque sempre alquanto incisivo quindi secondo me è un'indiscrezione che ci può stare o perlomeno il fatto che ancelotti è stato contattato mi risulta che sia reale poi bisogna vedere fino a che punto questo sondaggio possa trasformarsi in realtà fatemi sapere anche che ne pensate degli altri allenatori che vi ho detto se parla anche dei conti e lo ripeto e merì fonseca casperini e giampaolo voglio sapere la prossima ragazzi miei ci vediamo quindi con un nuovo video non so se oggi o domani perché insomma sto a parlare veramente in botto e lo ripeto non mi sento veramente non mi sento tanto bene alla prossima con un nuovo video ragazzi miei bello a tutti